Debutto in campionato nella giornata di sabato dopo la Coppa Italia di Serie C, la Fidelisandria e il Biceglie si apprestano a vivere la prima sfida ufficiale del torneo di terza serie. Per i federiciani questo è il terzo anno consecutivo tra i professionisti, mentre per i bicegliesi si tratta di un ritorno dopo ben 19 anni. Due appuntamenti nei quali le compagini volano dimostrare il proprio valore al di là di quanto già visto nel precampionato. La Fidelisandria affronterà tra le muramiche del Degli Ulivi la Juve Stabia, per questo appuntamento lo staff tecnico potrà contare su quasi tutta la rosa, avendo recuperato anche lo stopper Danilo Colella, l'esterno offensivo Enis Nadarevic e la punta Antonio Croce, reduci dai rispettivi infortuni, oltre che l'altro attaccante Riccardo Lattanzio che ha scontato un turno di stop imposto dal giudice sportivo nella scorsa stagione. L'unico indisponibile su cui non potrà contare mister Valeriano Loseto sarà il centrocampista Alessio Esposito, squalificato. La squadra scenderà in campo con il 4-3-3, in porta si posizionerà Mauro Antonio. La retroguardia verrà composta da Tiritiello, in vantaggio sull'ultimo arrivato dei Giorgi, Allegrini, Rada e Curcio. Sulla mediana spazio a Piccini, Quinto e Matera, mentre il trio offensivo sarà composto da Minicucci, Lattanzio e Barisic. Primo impegno esterno invece per il Biceglie che sfiderà in trasferta la Paganese, 4-3-3 anche per gli uomini di Mister Nunzio-Zavettieri. Tra i pali ci sarà Crispino, in difesa spazio a Migliavacca, Petta, Jurchic e Giron. A centrocampo agiranno Risolo, Vdoliac e Martinez, in attacco infine Partipilo e Montinaro, qua adiuveranno Jovanovic. Sono contento, abbiamo fatto un mese di lavoro buono, per fortuna non abbiamo avuto grossi infortuni, quindi piano piano ci avvieremo nel giro di due o tre settimane ad arrivare alla condizione migliore. Credo che da un punto di stamentale saremo pronti per questa partita, è chiaro che sappiamo che è difficile, un esodo difficile, un campo difficile contro una squadra che è abituata da tanti anni a battagliare, passatemi il termine, in questo campionato, quindi un bel banco di prova per noi. Quello che mi aspetto è un Biceglie Cagliardo, un Biceglie che se la voglia giocare, che sia protagonista attivo di quelle che sono le dinamiche di una partita.